Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Righi03 Oggi siamo tornati in un nuovissimo video della carriera di Riccardo Bianchetti La sua Audi Sport F1 su F1 2025 Signori grazie mille a tutti del supporto che mi state dando Siete fantastici, like, commento e condivisione come al solito Iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto, è importantissimo Signori in questo episodio andremo a correre nel campionato appunto round numero 21 Siamo veramente alla fine della carriera di questa stagione numero 2 Chissà se ci sarà una stagione 3, fatemelo sapere nei commenti In tutto ciò nella scorsa gara abbiamo fatto un'ottima gara Cercheremo appunto di portare a termine anche una buona gara in Portogallo Dobbiamo ragazzi cercare di evitare che le Clerc vinci il mondiale Per provare a vincere noi ovviamente Sarà difficile, sarà estremamente difficile Quindi andiamo in carriera pilota Siamo al momento terzi nel campionato Ma adesso andiamo ad analizzare tutto quanto Signori eccoci qui nel menu Stagione numero 2, turno 21 Allora andiamo avanti, andiamo a vedere tutto Mi hanno detto che Sargento sta avendo problemi Quindi ci saranno dei trasferimenti in teoria Vedremo cosa succederà Specialisti, abbiamo gli specialisti che li andiamo a definire Ma tanto poco ci servono Abbiamo definito tutti gli specialisti Dettagli del pilota Stiamo a 90 di overall Benissimo Riconoscimenti Ok Top Va benissimo Rivali Abbiamo vinto contro quella con Perez Vinceremo anche quella con Zu Grafico delle valutazioni Signori abbiamo 90 di valutazione totale 80 di esperienza 91 di destrezza 90 di riflessi 91 di ritmo E 90 di concentrazione Qui vedete proprio No non me lo fa vedere qui Però va bene Abbiamo la macchina La seconda macchina più forte del campionato Però non è effettivamente la seconda Perché siamo a pari di Red Bull Ferrari McLaren e Mercedes La prima è Aston Martin Poi più in basso di queste qui abbiamo BMW As Lamborghini E Williams Non abbiamo sviluppi in corso Anche perché ragazzi Abbiamo da tappezzare la macchina per l'anno prossimo Classifica piloti Vede Riccardo Bianchetti 313 punti Raga il campionato ancora non è chiuso Si può ancora vincere Possiamo ancora fare qualcosa Vedremo che cosa riusciamo a fare Anche il campionato costruttori Siamo secondi 464 punti Raga Niente è impossibile Stagione numero 2 Turno 21 Andiamo a fare il weekend di gara Allora signori eccoci qui nel menu principale della nostra carriera Abbiamo 3 prove libere Qualifica e gara Abbiamo prova libera 1, 2 e 3 Dove la 2 è piovosa Il resto ok Va benissimo Niente notizie particolari La gara qualifica è ok Come meteo Non abbiamo possibilità di fare migliorie Ma sicuramente ci andiamo a giocare queste prove libere Noi ci vediamo direttamente alla qualifica del Gran Premio del Portogallo Allora signori ci siamo Gran Premio di Portogallo Qualifica Andiamo Noi ci vediamo Grazie a tutti è polpo è polpo è polpo il position let's go signori polpo il position di un di due decimi fortissimi andiamo andiamo a giocarci la gara signori si corre a portogallo let's go conto su di te non deludermi sei amico non ti deludo strategia di gara rassetto auto 7.10 va bene scendiamo un po' il carburante anche se il carburante onestamente scende abbastanza bene e boom ci siamo possiamo andare in gara inizio gara pole position aiuto me vogliono me vogliono attaccare aiuto me vogliono prender vai 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 siamo in prima posizione dopo qualche curva del gran premio del portogallo leclerc in seconda zu in terza sainz in quarta versappen in quinta non buono che leclerc sia qui in seconda posizione perché leclerc può vincere il campionato ovviamente oh mio dio un po' di un po' di sovrasterzo sottosterzo un po' di cazzi in culo stiamo perdendo il posteriore siamo a 5 decimi via 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 bianchetti fuggi fuggi bianchetti fuggi riccardo riccardo bianchetti 1-19-0 giro veloce veloce fuggi riccardo bianchetti andiamo leclerc prova l'assalto su bianchetti e ci prova e ci riesce a chiudere il sorpasso sarà una gara di seguimento su Charles leclerc minchia se fugge leclerc leclerc scappa leclerc è velocissimo usare più sorpasso 8 decimi 7 adesso avvieremo anche il DRS ci avviciniamo a Charles leclerc leclerc giro veloce 17-0 45 ma noi non siamo da meno siamo qua dietro oh leclerc come cazzo ti muovi ruota ruota tra Charles e bianchetti la spunta mi sa riccardo bianchetti all'interno all'esterno adesso interno che diventa esterno interno che diventa esterno 30 trazioni di leclerc ma vanno ruota ruota ancora riccardo bianchetti ci prova zu sulleclerc incredibile guanyu zu occhio che perdo la macchina occhio giro 4 leclerc all'attacco all'attacco Charles ci prova all'interno ma il bianchetti tiene la prima posizione occhio al posteriore che parte carlo il chierico è qui dietro due decimi ci prova con DRS non si butta stavolta occhio bianchetti difficoltà con la frenata incredibile oh occhio che parte il posteriore della vettura e continuiamo a martellare però c'è leclerc che si vuole laureare campione del mondo per la prima volta nella carriera e dopo tanti anni della Ferrari ci vuole provare Charles Leclerc ci vuole provare eccolo Leclerc si mette davanti Charles Leclerc veramente forte la sua Ferrari in top 10 in top 5 non vedo un Aston Martin e godiamo godiamo di questa cosa incredibile Leclerc si mette avanti ma noi lo andiamo a recuperare col DRS e con l'ERS mamma mia se sto avendo problemi con la frenata in queste gare ma va bene così va bene così all'inseguimento di Charles Leclerc con la nostra Audi Sport Steak F1 Team vai piccolo vai piccolo bianchetti ce la puoi fare 8 decimi esce bene bianchetti ci vuole provare ad avvicinarsi ancora a Carlo il Chierico DRS 4 decimi 3 decimi 2 decimi chiude Leclerc vuole tenere il primo posto non sono riuscito ad attaccarlo ancora problemi frenata per la vettura di bianchetti e bianchetti proprio ha qualche difficoltà siamo al settimo giro adesso c'è il giro del pit andiamo a metterci davanti a Leclerc è importante adesso sali davanti prima del pit stop Leclerc si accoda al momento usare l'herso adesso per difendersi va bene zitto zitto a Alex box di slap box di slap for medium tires confermiamo le gomme da bagnato va zu Leclerc rimane qua con me dai 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 circuito del portogallo due e mezzo il pit stop questa volta niente problemi Leclerc è a nove decimi otto decimi eccolo zu dietro Leclerc ancora la battaglia non è finita oh fantastico hai centrato l'obiettivo adesso siamo in ottima posizione per il resto della gara ti distacco dal tuo compagno oh vola bianchetti occhio presso in pieno il cordolo ci riprova Leclerc all'interno ruota ruota con bianchetti mettami a codo va bene dai cazzo Sainz davanti a zu scia di Leclerc apriamo il DRS chiudiamo il sorpasso un'altra volta rimettiamoci in prima posizione però al momento Ferrari fa un 2-3 che è buonissimo per loro in campionato costruttori anche in pilodi Leclerc potrebbe vincere il campionato allora Sainz non ha il DRS di Leclerc in teoria quindi sarebbe buono se zu attaccasse Sainz anche perché ha gomma di svantaggio però gomma hard occhio attenzione bandiera gialla Leclerc 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 colpo di scena colpo di scena Leclerc si ritira Charles Leclerc che problema al motore per la Ferrari la sfiga di Leclerc colpisce anche nel videogioco incredibile poteva vincere il mondiale in questa gara ma a quanto pare con Bianchetti ancora nei giochi potrebbe non vincerlo più questo è un grandissimo colpo di scena e questo è un grandissimo colpo di scena e sarebbe buono adesso se zu attaccasse Sainz per la seconda posizione chiudiamo in 1-2 vieni zu vieni passa zu passa sulla Ferrari 1-2 Audi 1-2 Audi 1-2 Audi mi servono però a me la vittoria zu perché se voglio vincere il mondiale mi servono tutti i punti no mi sono dimenticato di fare l'obiettivo tocca stare dietro a zu per tutto per tutto il tempo raga siamo dietro a zu poi lo attacchiamo l'ultimo giro questa kick sauber nata un anno fa è cresciuta un sacco e adesso si sta giocando un 1-2 in Portogallo sarebbe il secondo il terzo 1-2 della storia no forse il secondo per l'ultimo giro ragazzi è importante ricaricare batteria e stare lì dietro in questo giro dovremmo passarlo nel giro successivo per portarci a casa la vittoria è l'1-2 con Audi oh no 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 ragazzi è un danno no meno male l'ho preso il DRS sei all'ultimo giro è cappellata non ci sono riuscito non ce la faccio non ce la faccio ho fatto una stronzata ragazzi stronzata stronzata fatta stronzata fatta è altro colpo di scena altro colpo di scena altro colpo di scena ragazzi si porta a casa si porta a casa 25 punti una vittoria una vittoria ragazzi un bacio ciao da Ricky ciao da Ricky di scena di scena